Ce n'è una fra Catania e Palermo, c'era sto Catanese, c'è una macchina che mi accattai, c'è una bella macchina, c'è il numero uno, questa Catania-Palermo, un'ora e quaranta netti, c'è un'ora e quaranta, numero uno, che si incontrano una settimana dopo, c'è un'ora e mezza, c'è una marmitta nuova, ora Catania-Palermo, in un'ora e mezza precisa, c'è un'ora e mezza, un apparecchio, ci si incontrano una settimana dopo, c'è un bar, o stai avrendo questa copentura che ci si prende questa macchina? Ora con questa macchina Catania-Palermo in un'ora, c'è un'ora, una fascia, ci si incontrano una settimana dopo, c'è un bar, che c'è una macchina con me, c'è un bar, ma con me, c'è un bar, perché con me, questo c'è un'apparecchio? Mi chiedi a un certo punto mi sono chiesto, ma io tutti ho Nappalemmo, ma chi minchia ci vai a fare? Era così. Grazie.